Bentornati a Istruzioni per l'Uso. Oggi parliamo di climatizzazione, vediamo quali sono le varie opzioni e come si impostano. Andiamo a vederle direttamente sul nostro padone. Partiamo dalla visualizzazione normale del nostro schermo. Come vedete io sono da solo in auto e ho impostata la temperatura dalla mia parte di 21 gradi. Da questa parte non c'è niente perché attualmente la climatizzazione, il lato passeggero, è spenta e si spegne in automatico quando l'auto rileva che non c'è nessuno seduto a fianco, ma ci arriveremo a breve. Come azionare i comandi della climatizzazione? Possiamo o cliccare direttamente sul numero oppure in qualsiasi parte nera della barra del nostro padone ci basta scorrere verso l'alto, quindi anche quando stiamo guidando è estremamente facile andare a scorrere e a vedere la climatizzazione. Prima cosa da vedere ovviamente sono i flussi. Tesla non ha le bocchette fisiche che si regolano come altre auto, ma ha i flussi regolabili direttamente dal padone. Vedete ora mi torna giù, in questo modo io posso regolare, per esempio sono due flussi separati, posso semplicemente unirli, come vedete posso alzarli, abbassarli e farò tutto in automatico. Io preferisco tenerli completamente alzati e completamente separati. Qui sulla sinistra vediamo la parte anteriore o la parte posteriore. Per quanto riguarda la parte posteriore possiamo accendere manualmente la climatizzazione posteriore, vedete che si accende anche quella del passeggero in automatico, o possiamo anche spegnerla e possiamo anche accendere o spegnere i sedili riscaldati posteriori. Tornando alla climatizzazione anteriore abbiamo tutta una serie di comandi. Innanzitutto la funzionalità di accensione e spegnimento. Così spegniamo, vedete che è cambiato, proprio non è più evidenziata la temperatura. Se vogliamo riaccenderla possiamo farlo o cliccando o alzando e si accende in automatico, rispegniamo oppure tenendo premuto qui la temperatura e vedete che si riaccende. Possiamo tenere la climatizzazione in automatico e quindi farà tutto assolutamente da sola l'auto in base temperatura impostata e gestirà anche i flussi. Oppure possiamo togliere l'automatismo, andare a scegliere i flussi che vogliamo. Vedete ora è andata a togliere il flusso centrale perché io l'ho eliminato. Se vado a sceglierlo vedete che è cambiato ulteriormente. Tra l'altro il manuale mi ha acceso anche quella passeggero che posso allo stesso modo andare a modificare esattamente come quella del guidatore. io lo tengo sempre in automatico. Una novità di qualche settimana fa è la possibilità di scegliere anche in automatico la velocità della ventola, quindi media, bassa o alta. Ovviamente questo inciderà sul tempo che ci mette l'auto a raggiungere la temperatura o comunque il mantenimento della temperatura interna. Qui sulla destra abbiamo il ricircolo che possiamo attivare o disattivare a piacimento. Abbiamo lo sbrinamento anteriore e posteriore e abbiamo anche i sedili riscaldati. Questo è quello del guidatore e questo è quello del passeggero. Io ce li ho in automatico quindi decide la macchina quando attivarli o meno e la trovo una funzione estremamente comoda. Altrimenti li disattivo e posso farlo io manualmente su tre livelli ma preferisco tenerlo in automatico. Altre funzioni molto interessanti sono quelle che troviamo qui sulla parte destra. Abbiamo la funzione di mantenimento della temperatura quindi quando io vado a premerla mi spiega ovviamente qua sul paddone che cosa fa. Quando io scendo dalla macchina l'auto anche se chiusa mantiene la temperatura impostata. Abbiamo la modalità cane. Quando io vado a impostarla scendo e chiudo la macchina l'auto mantiene una temperatura preimpostata perché se abbiamo ovviamente animali in macchina li mantiene la temperatura corretta e sullo schermo appare un cane con l'avviso che appunto vedete che è scritto anche qui dog mode ma viene un cane grosso proprio sullo schermo per avvisare i passanti che comunque la temperatura interna è adeguata al cane e viene proprio mostrata in grosso la temperatura. Un'altra funzionalità è quella campeggio perché se io voglio dormire in macchina per esempio posso farlo attivando la funzionalità campeggio posso chiudere la macchina e questo mi manterrà la climatizzazione attiva ma mi manterrà anche le funzioni dell'infotainment attive. Abbiamo poi qui in alto la funzione di programmazione che è la stessa che possiamo attivare anche da app quindi quando vado a cliccarci posso dire che io esco di casa tutte le mattine alle 7 e andrò a selezionarlo in modo tale che tutte le mattine alle 7 l'auto sarà già preclimatizzata. Le auto che hanno filtro e ipa hanno qui un'altra icona con il simbolo di pericolo biologico che è una funzione che va a pressurizzare l'abitacolo quindi facendo partire la ventola al massimo e evita di fare entrare eventuali agenti contaminanti o particolarmente inquinanti. Un'altra icona che qui mi manca perché io non ce l'ho è quella del volante riscaldato che dovrebbe apparire in quest'area. Anche in questo caso come per i sedili c'è sia la funzione manuale su due livelli che la funzione automatica in base alla temperatura dell'abitacolo. Ultima cosa interessante da dire sulla climatizzazione è che se io voglio personalizzare la mia barra con i comandi di climatizzazione dovrò premere i tre puntini tenere premuta una qualsiasi app e vedete che mi si attivano delle altre funzioni che sono proprio lo sbrinamento anteriore e posteriore e i sedili riscaldati e posso trascinarli nella mia lista delle app in modo tale da averli subito a disposizione se necessario. Bene questo è tutto ci vediamo alla prossima ciao